ciao a tutti sono Eleonora e mi do il benvenuto nella mia cucina oggi andremo a preparare un'insalata di fagiolini in agrodolce puliamo i fagiolini togliamo l'estremità questo non c'è bisogno di toglierlo tanto è tenero si può mangiare rispezzettiamo adesso li laviamo per bene sotto l'acqua corrente trasferiamo i nostri fagiolini lavati nel cestello per il vapore copriamo di acqua la casseruola sottostante fino al cestello copriamo con il coperchio mettiamo su fuoco e lasciamo cucinare per 20 minuti in alternativa i nostri fagiolini li potete immergerli in acqua bollente per 15 minuti una volta che i nostri fagiolini sono cotti li mettiamo su un telo e lasciamo asciugare mettiamo un vetta in ammollo con dell'acqua fredda per dieci minuti in una larga padella mettiamo due spicchi d'aglio e dell'olio lasciamo insaporire qualche minuto una volta che l'aglio senza pulito buttiamo i nostri fagiolini e lasciamo insaporire per 5 minuti aggiungiamo del sale una volta che i nostri fagiolini si sono insaporiti li togliamo da poco adesso puliamo le nostre foglie di menta con uno scottex questo è il periodo della menta profuma tantissimo trasferiamo i nostri fagiolini in un piatto da portata eliminiamo l'aglio prendiamo i nostri fagiolini con dell'uvetta che abbiamo precedentemente ammollato delle foglie di menta e li lasciamo riposare almeno 60 minuti una volta che i nostri fagioli in agrodolce hanno riposato provate di questi fagiolini in agrodolce sono veramente squisiti grazie per la visione alla prossima ricetta ciao 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 ciao